Allora, sono arrivato qui tramite il bando del sito ufficiale, ma aspettavo di arrivare ad Alta Roma da un po', sempre guardato Alta Roma con mia nonna, sono sempre anche venuto da ospite e questo è stato il mio primo anno da partecipante. Essere qui vuol dire opportunità, siamo su una piazza dove possiamo confrontarci direttamente con buyer, con stampa, con stylist e con tutte le altre figure del nostro settore e questo per noi è sicuramente una grande opportunità di miglioramento. Allora, da questa giornata mi aspetto tanto, ho già parlato con degli stylist che hanno preso dei vestiti per scattare degli shooting speciali su noi designer che abbiamo sposto ad Alta Roma e altri incontri di cui ancora non posso svelare nulla, ma molto interessanti.